Ciao ragazzi e ciao ragazze, oggi recensione tutto a tema giochi preziosi con i nuovissimi prodotti da poco usciti ovvero le Glimbys e i Num Noms dei quali ho per adesso comprato solo questa bustina che vedete qui a sorpresa che ho trovato in edicola. Parto a mostrarvi prima le Glimbys. Le Glimbys sono delle creature di origini celesti che prima ancora di diventare magiche creature sono state 23 piccole stelline inviate dalla loro mamma la luna perché si prendessero cura degli animali del bosco di Glimbys. Per questo motivo hanno infatti assunto le sembianze di animali del bosco e vivono così infinite avventure in nome dell'amicizia e del rispetto della natura. Come abbiamo detto ne esistono diverse, tutte di colori diversi che hanno anche i tratti di animali diversi e la cosa bellissima delle Glimbys è che si illuminano al buio e intensificano o meno la loro luce a seconda anche di come le sfioriamo. Io come potete vedere ho comprato Rachella perché era quella che mi piaceva di più anche se sono tutte molto carine e super tenere. Esistono comunque diverse confezioni, vi faccio vedere. Eccoci qui siamo sul sito ufficiale giochi preziosi Glimbys dove qui ci racconta la storia come quella che vi ho descritto io prima e ci fanno vedere tutti i prodotti dedicati alle Glimbys. Quindi ci sono le nostre bamboline nel pacchetto singolo come quella che ho comprato io, nel pacchetto doppio quindi ne troviamo nella stessa confezione 2 o nel pacchetto triplo quindi ben tre. Molto carine sono le Glimbys Glimbys che sono le casette delle nostre bamboline tutte a tema bosco e guardate qua ci fanno vedere che possiamo impilarle insieme quindi metterle una sopra l'altra, appenderle e anche collegarla una con l'altra. Vedete qui che le stelline si incastrano insieme e possiamo unirle. Il prodotto però più carino che non è ancora disponibile, infatti qui ci dice disponibile da marzo 2017, è la Glimbys Glimbys, questa lanterna scintillante che include una bambolina esclusiva, si apre completamente e rivela al suo interno un soffice lettino di nuvole sogni dove la nostra Glimbys può dormire, possiamo appenderla dove vogliamo e qui sotto ci dice che c'è anche la doccia per rilessarsi sotto ad una pioggia di stelle. Quando poi la lanterna si chiude la bambolina all'interno si accende come per incanto quindi io la trovo fantastica, è veramente bellissima. ritorniamo alla nostra Glimbys, eccola, allora io ho comprato questa qui nel pacchettino singolo perché non ho visto le altre collezioni che abbiamo visto adesso insieme, le ho trovate tutte così e so che le vendono, l'ho pagata scusate sulle 5 euro e 90, so che in edicola le vendono a 4 euro e 90, quindi visto che la differenza è solo un euro ho preferito sceglierla in questo formato, almeno ho preso quella che mi piaceva di più. Allora qui in alto come potete vedere c'è appunto la scritta Glimbys che mi piace tantissimo perché è un po' fatata, richiama la natura con queste foglioline, queste lucine. Molto bello è il fatto che sulle due i c'è di qui una stellina e di qui la luna, proprio come la storia che abbiamo raccontato prima, quindi che la luna invia le sue stelline sulla terra. Ecco, quindi vedete che questa scia mi piace molto perché racconta un po' la loro storia. Qui lateralmente c'è sempre il richiamo alla luna e alla natura, qua in alto ci dice che si accendono magicamente e qui sotto c'è sempre il richiamo un po' alla natura con fiori, foglie, funghi, un tronco dell'albero. Qui vediamo che c'è il logo giochi preziosi, il nome della nostra bambolina, Rachella, e qui c'è quello che dovrebbe essere il simbolino che la contraddistingue perché ogni bambolina ho notato che ha un simbolo diverso. Allora, il suo sembra che sia una ghianda, io pensavo che Rachella fosse una volpe, anche sbirciando un po' lateralmente dalla forma della coda, penso che sia una volpe, invece questa ghianda mi fa venire il dubbio che sia un roditore, comunque uno scoiattolino, fatemi sapere voi perché io non ho trovato scritto da nessuna parte. Allora, qua dietro invece vediamo che ci dice collezionale tutte e di questa collezione del singolo pacchetto ce ne sono ben 12 diverse e qua ci fa vedere che magicamente si accendono e possono intensificare la loro luce quanto più è buio. adesso togliamo la nostra Rachella dalla scatolina che ve la faccio vedere meglio e soprattutto la proviamo anche perché non vedo l'ora, ci vediamo tra un secondo. Eccoci qui con la nostra Rachella finalmente fuori dalla scatola, guardate è tenerissima e ha un colore stupendo, ha questo faccino rosa Barbie, anche se dalla telecamera sembra più chiaro, ha degli occhioni grandissimi un po' manga di colore violetto con tante lucine all'interno, una delle quali come potete vedere ha forma di stellina veramente tenera, poi ha tante ciglia nere che proseguono fin sotto gli occhi, sulle guance ha dei pommellini fucsia e il sorriso è appena accennato ma è tenerissimo, ha poi queste sopracciglia fucsia un po' come i capelli che sono un rosa fragola un po' sparati lateralmente con questa frangettina aperta e queste due ciocchine laterali, sulla testa ha poi queste orecchie di due colori, infatti se vedete l'interno sono di un rosa più acceso, ve la faccio vedere anche dietro dove ha il tasto di accensione on off e la parte dove possiede all'interno le batterie quando dobbiamo sostituirla con svitando qui dove c'è la vitina, comunque le batterie sono già incluse. Proseguendo ha questo colletto bianco un po' a onda, il corpicino è stupendo, infatti è rosa trasparente, brillantinato, così come la codina che è di un rosa diverso, è più rosso e non sa se si vede ma ha inciso sul pancino quello che è il simbolo della sua ghianda. Le braccine sono come dello stesso colore del viso e le possiamo muovere su e giù, eccola qui, e le gambine sono uguali e ai piedi porta queste scarpine di colore un po' come i capelli color fragola con queste calzettine bianche. È giunto il momento di provarla, io non vedo l'ora, quindi spostiamo immediatamente il tastino su on, eccola qui che si è già accesa, fantastica, ha una luce fucsia, ecco e si accende con le nostre mani, eccola qui, o credo magari più è buio e più lei emette luce come ci faceva vedere forse sul retro della confezione, guardate che carinissima, mi piace troppo, aspettate che visto che c'è il flash puntato, proviamo a togliere il flash, arrivo subito, eccola, si vede molto molto meglio, emette veramente tantissima luce, c'era il flash veramente troppo potente, quindi non si vedeva bene, veramente luminosissima, credo che ne comprerò delle altre, veramente fantastica, mi piace tantissimo. Vi faccio notare che insieme a Rakella ho trovato questo depliantino che ci dice Glimmies 23 da collezionare, giochi preziosi, se lo apriamo possiamo vedere tutte le altre Glimmies da collezionare, qua ci dice 12 basic dolls e come possiamo notare hanno tutti dei nomi diversi, un simbolo diverso e che assomigliano ad animaletti diversi, c'è per esempio la renna, o questo sembra più un topolino, questo un pipistrello, una coccinella, o questa sembra una volpe, anche dal nome Fox, quindi mi sa che ho sbagliato, non è una volpe Rakella, fatemi sapere voi perché io non capisco, quindi è una ghianda, magari è veramente un roditore. Poi qua ci dice 11 bamboline esclusive e ci fa anche vedere le loro casette, come l'abbiamo visto prima sul sito e giriamo anche qui dietro, ecco qua dietro c'è la lanterna che stavamo guardando prima e che si apre con la dozza e il lettino, veramente carino e qui ci fa sempre vedere che si illuminano col buio. passiamo ora ai num noms, spostiamo quindi e innanzitutto la spegniamo perché non vogliamo consumare la nostra Rakella, spostiamola lateralmente e passiamo ai nostri num noms che ho comprato in edicola al prezzo di 4,90€ come potete vedere scritto qui, fanno parte della prima serie, qua in alto ci fa vedere preziosi collection e mi piace tantissimo qua che la odi noms è stata come rosicchiata, sembra una ciambella mangiata. Qua ci dice che contiene un lucidalabbra, ah no, un num e un lucidalabbra noms. Allora, in allegato la rivista che è quella che ho messo qua dietro, dopo la guardiamo meglio insieme. Qua ci sono dei dolcetti gustosissimi. Allora, cerchiamo di capire cosa sono i num e i noms. Qua dietro ce lo fa capire un po' meglio. Allora, ci sono i noms che sono la parte superiore, quindi quella morbida di gomma da mettere quindi sopra. ai noms che sono la parte di plastica rigida, quindi, e che possono essere lucidalabbra come in questo caso, come ci dice qui davanti, o possono essere motorizzati. Non è questo il nostro caso, dopo guardiamo i pacchettini. E qua ci fa notare che si dividono in cupcake, quindi possiamo trovare o cupcake che sanno all'arancia, alla ciliegia, alla menta, o anche il sapore di gelato, quindi creme caramel, banana, cioccolato. E i lipgloss, anche loro di diversi gusti, anche loro la banana, ananas, fragola, menta. Sono curiosissima di vedere cosa potrò trovare. Qua ci dice collezionali tutti. Allora, qua vi faccio vedere all'interno del giornalino, che in fondo ce li spiega meglio. Quelli che possiamo trovare ci dà anche una loro descrizione, quindi li possiamo conoscere un po' meglio. Ora, apriamo la nostra bustina così vediamo cosa troviamo all'interno. Ah, mi stavo dimenticando di dirvi che possiamo impilarli uno sopra l'altro, creando tantissimi gusti diversi, perché loro sono tutti profumati. Aspettate che l'ho preso. Ecco. Eccolo qui che abbiamo trovato. Sembra diviso in fragola, cioccolato e ha dei biscottini. Ah, ma è morbidissimo. Aspettate che lo apro. E qua sembra lucidalabbra di colore verde. Aspettate che andiamo a leggere anche chi sono. Eccoci qui. Allora, aspettate che lo sfido. Ah, è sigillato. Apriamolo. Qua dentro c'è il lucidalabbra. E' durissimo. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato quindi il Dobs di colore verde alla menta. Scusate un secondo. Non sa proprio alla menta. Sembra più un sapore di biscotto. Comunque guardate che faccina carina con questi occhioni marroni. Ed è di un verde acqua molto, molto, molto grazioso. E sembra panna montata con questo fiocchettino in mezzo alla fronte. Fantastico. Poi all'interno c'ha quindi quello che dovrebbe essere il lucidalabbra alla menta. Anche se il profumo, sono un po' raffreddata, però il profumo mi sembra che sappia un po' più di dolce, di biscotto. Sopra invece il nostro Noob è quindi metà, è morbidissimo innanzitutto, ed è metà fragola, metà cioccolato. E poi sulla testa questo spruzzo di, sembra panna montata, da mettergli sopra. Proviamo. Ecco, molto carino. Però più ne abbiamo e più possiamo impilarli e divertirci, insomma. Eccoli qui. Carinissimo. Andiamo a vedere comunque chi sono quelli che abbiamo trovato. E qua credo che si veda meglio che dietro la confezione. Allora, innanzitutto, eccola qui la nostra, e si chiama Neo Trio. Ciao, a lei piace tutto ciò che è italiano, soprattutto il gelato. Quindi fa parte del ice cream Noobs, quindi quelli a sapore di gelato. Anche qua ci fa vedere che ci sono i cupcake, quindi gli altri. E qui sotto invece ci sono i luci da labbra e il nostro è, eccola qui, Minty Gloss Up. Porta una boccata di ala fresca ovunque. Vada. Ok, sono fantastici. Credo che proverò a comprarne qualcun altro se passa ancora in edicola. Costano 4,90 euro, quindi il prezzo, insomma, è abbastanza altino. Però sono veramente molto carini. Volevo farvi vedere dal sito gli altri prodotti. Ecco, sono andata anche qui sul sito dei Noob Noms. E qua ci dice, benvenuta nel mondo di Noob Noms, la golosa collezione di cupcakes e gelati profumati che rascondono una sorpresa. Ecco, e qui ci fa vedere che puoi scegliere il lube, quindi la parte sopra, aggiungere il Noom e aggiungere anche i diversi accessori, quindi la parte sotto, la tazzina del cupcake o il codo. E crea il mix di gusti perché sono tutti profumati. Quindi, se andiamo su prodotti, ci fa vedere che esiste il mystery pack, che è questa specie di vasetto dello yogurt, dove possiamo trovare, come noi nel pacchettino dell'edicola, un Noom Noms a caso. Poi ci sono gli starter pack, che contengono diversi, allora ci sono tre Noom e un Nooms, più un accessorio. E ci sono queste combinazioni diverse, come accessorio poi possiamo trovare, vedo, il cono di un gelato, o un vasetto di gelato, o questo qui sembra un paiolo, non sono sicura. Poi, l'ultimo è il Deluxe Pack, quindi questo qui gigantesco, ce ne sono dentro ben, sono, sembrano sei, sei diversi Noom e due Nooms, più due accessori a tema, quindi vedo in tutte e due le confezioni un cucchiaino, più un, sembra la vaschettina sotto del cupcake, e qui il cono di un gelato. Quindi esistono diversi prodotti, io non li ho ancora visti in giro, ho trovato solo la bustina, quindi ho preso quella, e sono veramente golosissimi e tenerissimi. Vi faccio vedere, per finire, anche il giornalino. Molto carino, l'ho sfogliato, ed è veramente molto interessante. Guardate qui, ci sono tutti i Noom Nooms impilati, con la lingua di fuori, che si assaggiano da soli. Qua ci spiega un po' chi sono, quindi ce li fa conoscere meglio, anche qui guardate questo disegno tenerissimo. Poi, qui ho letto un po' le storie, sono veramente interessanti, ci fanno, ci spiegano, diciamo, la storia dei profumi, o da come è nato il cornetto, da dove arriva, oppure ci fa conoscere meglio i profumi, che si dividono in floreali, fruttati, legnosi, oppure qua ci dice che, come è nato il gelato, e come è nato il sorbetto, qua la reggia dei profumi, che ci spiega i re, le regine, che erano innamorati dei profumi, dei diverse fragranze, quali utilizzavano. Qua ci spiega di diversi dolci, da dove hanno preso il loro nome. E qui ci dice, come è nato il cioccolato, o comunque i prodotti di bellezza, che usavano sempre re e regine. Qui in fondo c'è un test molto, molto simpatico, che ci fa scoprire, diciamo, qual è la nostra essenza, e quindi la nostra personalità, essenza fruttata, dolce o speziata. Per finire, la pagina che vi ho fatto vedere, corre a tutti i Lube Dubs da collezionare. Ora, scusatemi sul raffreddore, quindi non riesco a parlare molto bene, spero che la recensione vi sia piaciuta, fatemi sapere se li avete già comprati anche voi, se avete commenti. Ecco, con Rachella e i Lube Dubs, carissimi tutti, vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao da Wonderstevy, ciao!